Seguiamo con la nostra ricetta e, visto che già abbiamo il nostro potere anticongelante, ci vediamo solido totale, essendo un creme di frutto secco, che è una struttura particolare, aumentare un po' il solido nel caso, ci vediamo almeno a 42-43%, perché nel caso particolare, io voglio una struttura particolare, 420 grammi di solido. Sommando che già abbiamo, cioè 96-166-168-198-208-306-386-391-293-393. Mi falta, per raggiungere la quantità che io voglio, 26 grammi. Beh, devo mettere che, malto destrini, malto destrini, 26 grammi, perché è pura, calcolare come un solido differenzi, mesmo che abbia un po' di azucari, 26, 26. po' di pac, a malto destrini di te, po' di pac, sì, ma sono quantità molto piccole, quindi non per una questione di praticità, io non voglio calcolare se poter addossarci e se poter anticongelarci.